Questo virus ha fermato il mondo, ma per fortuna ci sono quelli che non si fermano. Sono gli operatori di Unicef che fortunatamente continuano ad andare avanti perché hanno guardato in faccia ogni singolo bambino e sanno quanto è importante arrivare da ogni singolo bambino in Italia e nel mondo. Dateci una mano, ve lo chiedo da mamma, ma anche dall'ambasciatrice di Unicef, un ruolo di cui vado molto fiera, di cui sento la responsabilità. Unicef in questo periodo terribile sta distribuendo kit di protezione, mascherine, medicine a tutti i bambini in Italia e nel mondo. Anche in Italia ci sono tanti bambini che ne hanno bisogno. Dateci un aiuto, fate questo numero 45525 o un sms, un numero fisso, donate perché ogni euro che donate può servire a salvare la vita di un bambino. Conto davvero su di voi. Grazie a tutti voi.